allora luigi com'è andata questa mattina il pane in piazza? è andata bene? si scuota ma a cesta let però com'è la? a cesta let? eh? sono passato a prenderti alle sette e ancora a letto? eh sì, sono passato alle sette a prenderti che c'era di andare a insacchettare il pane beh vabbè insomma cosa hai fatto te stamattina? hai insacchettato il pane che è te dal panettiere? no come no? ah perché c'era la tarda allora sei andato in giro col furgone a portare il cotechino e il pane? si, il cotechino e il pane è stata una bella giornata? si e mi ha fatto i messi? ma mi ha tanti forse mi ha tanti perché? beh però di pane ne abbiamo andato fuori tanto si anche tanto cotechino quasi tutto il cotechino perfetto luigi ascolta allora adesso ti sto portando a casa? si caro eh? sono le due e mezza abbiamo fatto giornata? si caro le due e mezza da te perfetto perfetto allora ci vediamo l'anno prossimo col pane in piazza? si caro ciao ciao caro ciao